Questa sera nella bellissima biblioteca di Bibiano ho parlato di cinema, libri e dischi partendo da un film, uno dei film che amo di più in assoluto, che è Mignone partita di Francesca Archibugi del 1988 che abbiamo proiettato durante, chiamiamolo così, l'incontro pubblico che abbiamo fatto. Partendo da Francesca Archibugi ho parlato poi di altri film che ho amato molto nella mia vita, in particolare Blade Runner, credo che sia un film condiviso, una passione condivisa da tantissimi. Ho parlato, avrei voluto parlare di Clerks ma purtroppo non ce n'è stato il tempo e poi sono passato alla musica. Ah, ho parlato anche delle Vergini Suicide, il primo film di Sofia Coppola. Passando alla musica ho invece parlato soltanto dei vinili e sono partito da Don Giovanni di Lucio Battisti, il primo disco che ha realizzato con Pasquale Panella, credo che sia un capolavoro di tutta la discografia italiana del dopoguerra e poi sono passato alle altre mie passioni più o meno adolescenziali, i polis, ho raccontato un po' di storie su affinità e divergenze dei CCCP, ho parlato di altre mie passioni discografiche italiane, gruppi italiani, in particolare Diaframma e poi anche invece cose straniere che mi hanno particolarmente attirato nella mia adolescenza d'archettona, This Mortal Coil e soprattutto il gruppo più importante dell'epoca, ha attraversato quasi tre decenni, sono i Depeche Mode, stanno festeggiando in questi giorni i 40 anni della loro formazione. Sono poi passato inevitabilmente ai libri e una delle mie grandi manie degli ultimi anni che sono i gialli svedesi e dopo essere stato folgorato dai libri di Stieg Larsson, che mi rendo conto essere molto popolari e quindi mainstream, ma anche io all'inizio li avevo giudicati in questo modo e mi rifiutai di leggerli, una volta entrato in quel vortice non ne sono uscito per anni, ho praticamente ricostruito a posteriori anche la vita personale di Stieg Larsson, una vita leggendaria, un compagno, compagno svedese che non ha mai visto una corona dei ricavati, dei miliardi di libri venduti perché è morto prima della loro pubblicazione, ne hanno approfittato invece il padre, il fratello che in realtà non aveva un rapporto con lui da 30 anni e purtroppo però Larsson è morto prima di poter godere dei frutti del suo lavoro letterario straordinario e quindi ho ripiegato su ciò che era arrivato prima, in particolare Henning Mankel, un monumento della letteratura del nord Europa che ha scritto tantissimi romanzi con un personaggio meraviglioso come il commissario Wallander che di fatto è l'equivalente del molto albano svedese, la stessa popolarità nel paese nordico, sono libri straordinari che ha scritto nel corso di vent'anni, purtroppo è scomparso di recente anche Henning Mankel e che hanno una visione non soltanto della storia gialla classica ma sono gialli sociali ambientati nella storia, ambientati nella realtà sociale svedese e sono stati sempre abbastanza critici sia quelli di Stieg Larsson che quelli di Mankel e infine a ritroso quelli degli anni 60 e 70 di Pervalo e Mia Siowal della società svedese, una critica alla socialdemocrazia svedese anche se come ho detto durante l'incontro ci fosse un altro Olof Palme, sono pronto a votarlo, dubito che nella politica italiana ci proporranno un politico di quel livello, purtroppo mancato anche lui. Come digressione finale ho promesso a tutti gli intervenuti una lezione sulla storia dell'impero bizantino di Ostrogoschi. Tra gli autori molto importanti della mia storia e che hanno in qualche modo influenzato la mia scrittura, la scrittura dei brani degli Oflag e dei Spartiti c'è sicuramente Paolo Nori che non è soltanto il curatore di questa rassegna ma anche uno scrittore contemporaneo italiano con una forza dirompente, in particolare Basso Tuba non c'è. Questa sera ho letto anche l'incipit di questo romanzo che al tempo piacque molto ad uditori, uno dei quali è molto importante, cito penisseuamente l'inizio del romanzo. L'importanza di Arturo Bertoldi, un amico della militanza degli anni Ottanta del Partito Comune Staliano Reggio Emilia e della FIGC, che purtroppo non pubblica ma in realtà è un autore immenso, è l'autore del testo di Cinnomo degli Oflag e di Scopax, è l'autore del libro Perché i vivi non ricordano gli occhi di, realizzato dal risultato storico per la resistenza di Reggio Emilia e l'istoreco, i racconti di quel libro straordinari, penso che siano un'opera letteraria a sé stante importantissima, anche se Arturo ha prestato la sua scrittura per qualcosa di più importante, cioè la memoria, ma sono veramente di una bellezza e di una struggenti indescrivibili, quindi se trovate quel volume Perché i vivi non ricordano gli occhi di pubblicato dall'istuto storico della resistenza di Reggio Emilia, credo che non ve lo dovete lasciare sfuggire, se lo trovate in qualche mercatino, in giro, in qualche mag, in qualche luogo dove sopravvive un po' di letteratura non omologata. Tra le letture che ho propinato al folto pubblico intervenuto questa sera c'è anche una delle cose che preferisco in assoluto, è un libro di Maurizio Blatto che si intitola L'ultimo disco dei Moicani, pubblicato da Castelvecchi qualche anno fa, è un libro che racconta le avventure del proprietario di un negozio di dischi, Maurizio Blatto, che è anche un critico musicale della musica underground italiana, scrive da tanti anni su Rumore, la nostra rivista specializzata, forse più importante, è una blow up di questo settore e Maurizio Blatto in questo libro racconta le incredibili avventure del pubblico che entra oggi in un negozio di dischi specializzato sostanzialmente in collezionismo o in, dicevo prima, culture musicali non omologate. Sono storie esilaranti, surreali, comiche, a volte tristi, a volte divertentissime, in particolare la storia di questo personaggio, di un racconto che si intitola Baseline, che millanta di essere stato lui a scoprire i Massive Attack nelle sue peregrinazioni come DJ in Inghilterra. Naturalmente si capisce dal racconto che questo tizio forse in Inghilterra non c'è mai stato, non ha mai fatto il DJ, non ha mai conosciuto i Massive Attack, ma lo racconto con una forza, una vehemenza, una convinzione che convince il lettore stesso che forse che sia stato lui a scoprirli potrebbe essere perfino possibile.